Sì, iniziamo. Dove sono andati in nostro amico? In nostro amico Stefano. Qui è molto buio. Non ci vede un cazzo qui? La farò uscire più le ragazze. La farò uscire più le ragazze. Non ci vede qua, è tipo buio. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Raggiungiamo al nostro amico Stefano che si è anche dato. Questa è giunta al sede. che scusa il gioco. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Ti prendete? Sì. Guarda, guarda. Diego. Prego! Che cazzo! Siamo ferma ferma! Ma basta! Scendiamo! Mimitizziamoci Siamo fissere l'interno Scendiamo, guardano, guardano corso il visto Ch衍chia Ma prenderanno bruncante! Ma tu vuoi suddita? Brunneranno! Se ci sgamano, ragazzi! E che verrà? Se ci sgamano, che facciamo?